Sgomberi e nuove occupazioni e così la questione casa rimane in primo piano con un allarme sociale che sembra non finire mai. Dopo il blitz di sabato scorso i 13 nuclei familiari di senza casa tra cui famiglie sfrattate e i nuclei sgomberati il 7 ottobre da via Cagliari rimangono nella ex caserma della pol strada di via Zarotto. Per ora istituzioni proprietari dell'immobile forze dell'ordine non intervengono anche se questa mattina l'amministrazione comunale ha preso posizione sull'argomento. Immagino ci siano centinaia di persone che con fatica, con dignità cercano di risollevarsi senza bisogno di occupare le case altrui quindi il tema è importante soprattutto è governativo sul quale invece non abbiamo risposte perché tutte queste azioni sono fatte di concerto con Acer, con il comune ma al momento quello che è l'attito è proprio il governo. Mi dispiace che continuino con queste occupazioni perché credo che non sia lo strumento giusto. Alcuni dei nuclei a cui abbiamo ricevuto quando c'è stato lo sgombero di via Cagliari abbiamo proposto un collocamento in dormitorio che capisco non sia una soluzione ottimale ma è il punto di partenza e dopo un reato si comincia da qua in coda tutti gli altri con un posto in dormitorio. Qualcuno ha rifiutato questa soluzione e ha preferito occupare allora io credo che a questo punto ognuno si assume anche poi le responsabilità delle scelte. Con il prossimo regolamento ERP noi metteremo anche dei punti negativi e quindi un deterrente a chi occupa perché credo che in un momento così difficile non si possa pensare di risolvere le soluzioni con i metodi illegali.